La macchina vaccinale pugliese ingrana la marcia e corre incontro alle somministrazioni di massa. Parte da oggi infatti in tutta la regione la campagna destinata anche agli under 80. Da questo pomeriggio alle 14 le persone appartenenti a tale categoria possono dare il proprio consenso alla vaccinazione. Si comincia dai nati fra il 1 gennaio del 1942 e il 31 dicembre del 1943, vale a dire 79 anni e 78 anni, mentre nei prossimi giorni potranno procedere via via anche tutti gli altri in ordine di anzianità. Non è necessario effettuare alcuna prenotazione, chi desidera vaccinarsi deve soltanto accedere al servizio e confermare la propria adesione per fissare data e luogo dell'appuntamento. Per farlo sono state individuate tre modalità, attraverso il sito internet lapugliativaccina.regione.puglia.it, attivo da questa mattina, dove si può compilare un modulo online e il sistema permette di visualizzare il giorno della vaccinazione che verrà effettuata nel lab più vicino alla residenza del cittadino. La seconda strada è quella del numero verde 800 713 931, attivo da lunedì al sabato dalle 8 alle 20. In questo caso si comunicano telefonicamente i propri dati all'operatore che a sua volta informa l'utente sulla data fissata per l'appuntamento. Infine resta la possibilità di rivolgersi personalmente alle farmacie accreditate al servizio Pharmacup. Per effettuare l'adesione è sempre necessario essere muniti di tessera sanitaria, codice fiscale e recapito telefonico. È possibile anche modificare la data della vaccinazione recandosi in farmacia. Discorso a parte per le persone con elevata fragilità per le quali le vaccinazioni sono già partite. Si tratta dei soggetti con più di 16 anni individuati dal Piano Nazionale Vaccini Anti-Covid come particolarmente fragili per il rischio di contrarre il virus in forma grave a causa di un danno ad organo preesistente per una malattia rara o per grave disabilità. Le persone estremamente vulnerabili, individuate in base ad una serie di patologie elencate sul portale della regione, attendono la chiamata del centro specialistico di cura o del medico curante. Se invece hanno una grave disabilità contattano il proprio medico. Sono inclusi in queste categorie anche i conviventi e coloro che forniscono assistenza continuativa a tali soggetti. La velocità di crociera della campagna vaccinale dipenderà ovviamente dal numero di dosi disponibili. Ad oggi, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, in Puglia sono stati somministrati circa 572.000 vaccini, pari all'84% di quelli consegnati, che sono in tutto poco più di 681.300. Ma nove scorte di Pfizer, AstraZeneca e Moderna dovrebbero arrivare già a partire dall'inizio di questa settimana.